Ciao, voglio raccontarvi la tipica giornata di tre persone, tre persone che lavorano tutte in uno stesso palazzo. Queste tre persone sono il 3 di quadri, il 2 di quadri e l'asso di quadri, rispettivamente l'asso, il 2 e il 3. Ora, ovviamente ognuno di questi svolge delle attività del diverso, ad esempio il 3 arriva con la soppella limousine, la parcheggia che il boss della parcheggia in fondo e prende l'ascensore fino ad arrivare in cima, lo mettiamo qua. Il 2 invece è un cosiddetto impiegato medio, prende l'elicottero, come fa un impiegato medio ad avere un elicottero? Perché è ricco di famiglia, arriva su piani superiori del palazzo e prende l'ascensore verso il basso fino a scendere sotto. L'asso invece non lavora né ai primi piani del palazzo né agli ultimi, ma bensì lavora in mezzo. In mezzo lavora come lavavetri, cioè al di fuori del palazzo. Ok? Ecco qua, l'asso, 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 poi entra dentro e così anche lui prende l'ascensore fino a statile sopra. Ci deve essere stato un guasto con l'ascensore. Però non c'è problema perché fra tutte le carte siamo stati fortunati perché è capitato proprio il 5 di fiori, che è il riparo ascensore. Infatti basta fare così che anche l'asso sale. Ora, il 5 di fiori, oltre ad essere riparo ascensori, è quello che li rende super sonici. In che senso? Qua abbiamo il 5 di fiori. E li rende super sonici proprio perché l'asso di guai, due o tre di quadri, basta uno schiocco di dita che salgono sopra. Ma li rende super sonici proprio perché è così veloce da lasciare indietro soltanto le loro ombre.